L'episodio è avvenuto lo scorso weekend a Palmi, un incendio alla porta del parco archeologico di Tauriana che ha riacceso la polemica tra il centro-sinistra, minoranza in questo momento nella città, e l'attuale maggioranza di centro-destra guidata dal sindaco Giovanni Barone. Ma andiamo ai fatti. Nella notte di venerdì un incendio si è sviluppato all'interno della struttura che fa da ingresso al parco archeologico di Tauriana, distruggendola completamente e riducendo in cenere tutto il materiale in esso custodito. All'interno dell'edificio non erano conservati reperti archeologici, ma solo materiale utilizzato per i vari eventi che soprattutto nel periodo estivo vi si organizzano. Sull'incendio sono ancora in corso accertamenti, probabile che il ruogo abbia avuto origini dolose. Dopo il grave atto, una delegazione del centro-sinistra, composta dal segretario del PD Domenico Solano e dall'esponente di sinistra per Palmi, Enzo Infantino si sono recati sul posto, per esprimere la solidarietà ai volontari di Italia Nostra che hanno in gestione il parco. Ci è dispiaciuto, dice Enzo Infantino, per la totale assenza delle istituzioni locali che a due giorni dall'incendio non hanno avvertito la sensibilità di recarsi sul posto. Per quanto ci riguarda, vigileremo con molta attenzione affinché da subito le autorità competenti intervengano per far ricostruire gli uffici e per tutelare e valorizzare un bene di inestimabile valore storico e culturale. Anche il circolo del PD, evidenzia Solano, si unisce all'Associazione Italia Nostra ed ai volontari che gestiscono il parco nel denunciare il silenzio e l'assenza del sindaco e della maggioranza che amministra la città. Ma ieri, nonostante la copiosa nevicata, il sindaco Barone, per sedare le polemiche, si è recato sull'incendio della porta archeologica, parlando di una visita programmata. Il sindaco, accompagnato dal presidente del Consiglio Comunale Gaetano Muscari e dalla consigliera comunale Antonietta Gagliost, ha verificato, assieme ad una pattuglia della Polizia Municipale guidata dal comandante Francesco Managò, lo stato dei luoghi a seguito dell'incendio che due notti orsona ha parzialmente distrutto la struttura in legno posta all'ingresso del parco archeologico di Tauriana. Parlando di un messaggio delinquenziale, un chiaro schiaffo all'istituzione e alla cultura. Il primo cittadino ricorda poi l'attenzione riservata al parco dei Tauriani che ha avuto un importante rilancio a seguito di un progetto di circa 300 mila euro stanziati dalla provincia Morabito, alcuni anni o sono, ed avrà un'ulteriore spinta grazie al progetto regionale richiesto dal sindaco Barone di circa 600 mila euro e già appaltato, il tutto in collaborazione con la sovraintendenza archeologica. Ma c'è da giurare che la polemica tra il centro-sinistra e la maggioranza non si placherà con una visita organizzata all'ultimo momento.